Ciao a tutti, io sono JustLuke, faccio questo video brevissimo per farvi vedere una cosa, allora, so che sembrerà più un video fetiche delle mie mani, tipo, però, vabbè, aspettate che mi metto comodo, ok, per fare questa inquadratura sto scomodissimo, ok, allora, se sentite dei rumori strani, è il mio vicino, è sempre colpa del vicino, tipo, il maggiordomo nei delitti, ok? Ok, allora, chi mi segue su Facebook o su Twitter saprà già di questo mio desiderio, e grazie a Frafrog devo dire che sei avverato, quindi grazie Fra, da parte di tutti noi, chi capirà da dove viene la citazione, mi raccomando, avrà il mio cuore, e allora, ora vi faccio vedere, volevo auto mandarmi un messaggio con il numero di mia madre, oddio, che sfigato, tipo, come si faceva alle medie, Eh, però mi è appena arrivato e non ho voglia di smanettare per capire le varie cose, eccetera, eccetera, le impostazioni delle suonerie, bla bla bla, quindi ve lo faccio sentire da così, allora, sappiate solo, come cazzo si fa qua, sappiate solo che, eh, questa, che questo, che cazzo sto facendo, sappiate solo che questa cosa la userò, che cazzo è sta roba, oddio, ok, che, Basta, ok, che questa cosa la userò, mmm, come suoneria, ok, guarda, oggi sono rincoglionito come non mai, ok, ve la faccio sentire, grazie!